sono stati 434 i pedoni morti nel 2023 sono numeri emersi dalla report stilato dall'associazione sostenitori e amici della polizia stradale in collaborazione con sapidata e osservatorio pedoni si tratta di un dato parziale che non tiene conto dei feriti gravi che poi muoiono anche a distanza di mesi negli ospedali molti pedoni sono stati uccisi dei luoghi che spesso riteniamo meno esposti a rischi ossia mentre attraversavano sulle strisce pedonali dei centri urbani e nonostante sia prevista la perdita di 8 punti dalla patente in caso di mancata precedenza anche il marciapiede è stato spesso teatro di tragici decessi nel lazio si può parlare di carneficina 53 decessi 30 a roma i dati sono molto preoccupanti anche in lombardia con 38 decessi di cui 3 nell'ultima settimana a milano e poi la campagna con 37 morti il veneto e l'emilia romagna con 31 turno